Prima o poi doveva arrivare questa prima sconfitta della gestione Le Grottaglie, si pensava potesse arrivare tra tante settimane e arrivata oggi abbiamo visto un Pescara un po' sottotono, non la squadra di Udine ma anche quella della seconda parte di gara con il Cosenzo. Non direi un po', un po' tanto sottotono, rispetto alle due ultime uscite oggi abbiamo purtroppo fatto una partita in colore, scialba. Perché? Perché, come fai a sapere il perché? Sicuramente analizzeremo gli errori perché per una partita del genere ovviamente qualche errore è stato fatto ma adesso chiedersi perché una prestazione così dopo due fatte bene sinceramente non fa la differenza ma quello che fa la differenza è continuare a credere nel lavoro continuare a credere ad essere positivi senza adesso fare drammi anche se, ripeto, mi rode perché lo dico in maniera molto sincera perdere perché non sono uno che piace perdere e tutti dovremmo avere questo tipo di atteggiamento però dobbiamo andare avanti e continuare a far crescere questo gruppo sotto l'aspetto tecnico-tattico, fisico e mentale. Questa gara ha detto che probabilmente a questo punto è arrivato il momento di portare a Pescara un altro giocatore d'attacco le grottaglie e chiederà alla società di accelerare le operazioni per far arrivare un nuovo attaccante? Io non chiedo niente, io chiedo solo di continuare a pensare positivo alla mia squadra, al mio staff continuiamo a lavorare sereni senza pensare a quello che è successo oggi, alla sconfitta e già abbiamo venerdì una partita importante dove dobbiamo fare bene, dobbiamo fare meglio dobbiamo correre di più, dobbiamo pressare di più, dobbiamo essere più intensi e dobbiamo giocare di più la palla perché è quello che oggi purtroppo è mancato su tanti aspetti e a me interessa vedere la squadra che mette in pratica quelli che sono i nostri principi, il resto attaccante o non attaccante è una scelta della società, ripeto, se dovessero arrivare giocatori che ci danno una mano benvengano nel gruppo perché è già un bel gruppo. Scelta iniziale di Bruno a centrocampo al posto di Castano, se poi tra l'altro si è infortunato, come mai? Come mai perché per me meritava di giocare Bruno, hanno giocato tutti e lui è tanto che non giocava e secondo me era il momento per buttarlo dentro perché si impegna, è un giocatore che fa bene al gruppo perché è un esempio, io lo vedo sempre il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare, corre, è una persona di riferimento e quindi vederlo lì che ci teneva quando si allenava a essere parte di questo gruppo ho detto che secondo me è l'occasione giusta per buttare dentro Bruno perché sono convinto che lui è importante per questo gruppo, al di là di quante partite farà, di come le farà, anche oggi ha fatto il suo ha fatto quello che gli ho chiesto, quindi sono contento di averlo fatto giocare. Per chiudere, ci sono tanti infortunati in questo momento nel Pescara, soprattutto per quanto concerne l'attacco Puccinelli, oggi Castanos, ne sapremo di più nelle prossime ore, è preoccupato alle grottaglie per questo? Beh, Pucciarelli sì, era un giocatore per noi che poteva darci una mano, soprattutto lì davanti per rapidità, per tecnica, quindi dobbiamo aspettarlo fra due mesi ma abbiamo altri, abbiamo Bocic, abbiamo Borrelli, noi lavoreremo su questi quindi gli infortuni, ecco, spero che finiscano perché poi gli infortuni caratterizzano anche in una stagione quindi meno ce ne sono e meglio è, aspettiamo chi ancora deve rientrare quindi siamo sereni a essere, ripeto, positivi io continuo a consigliare a tutti di essere positivi senza fare drammi senza esaltarci quando si vince troppo e senza essere drastici quando si perde Grazie mille